Come anticipato il ministro? Assolutamente sì. Oggi è una giornata troppo bella, troppo importante per le donne, per perderla in polemiche, in cavilli, in subemendamenti, in litigi. Uno stupratore, uno che mette le mani addosso a una donna o a un bambino, non solo va incarcerato ma va curato perché è un malato. E i malati si curano con l'aspirina o con altre medicine che volontariamente li mettano in condizioni di non ripetere le loro schifezze. Quindi andremo avanti, così come, però ne parliamo da domani in avanti, abbiamo presentato proprio oggi un progetto di legge sulla commissione d'inchiesta sulle case famiglia. Migliaia di bimbi trattenuti, in alcuni casi per business e per interesse economico, però oggi, questa giornata di aprile, col codice rosso e con la certezza della pena, la dedichiamo alle donne vittime di violenza, sperando che siano sempre di meno.